Consiglio provinciale straordinario aperto ieri ad Agrigento. C'era una massiccia rappresentante delle istituzioni ieri sera nell'Aula Luigi Giglia in occasione della seduta convocata dal Presidente Raimondo Buscemi per esprimere piena ed incondizionata solidarietà al Presidente della provincia Eugenio Dorsi, vittima di esecrabili azioni delittuose. Solidarietà è stata anche espressa nei confronti del Segretario Generale Giuseppe Vella e dei dirigenti Fabrizio Caruana e Aldo Gipolla. Tutti hanno voluto testimoniare la propria vicinanza, riaffermando il loro impegno nel combattere la delinquenza ed il malaffare. In Aula, tra gli altri, erano presenti anche il Prefetto Francesca Ferrandino, l'Arcivescovo Franco Montenegro, il Questore Girolamo di Fazio, i Comandanti Provinciali di Carabiniere e Guardia di Firenze, rispettivamente i Colonnelli Mario Di Julio e Vincenzo Raffo ed il Vice Comandante della Capitaneria di Porto, Antonio Cacciatore. Il mondo politico era presente con il senatore Giuseppe Ruvolo, i deputati regionali Roberto Di Mauro, Nino Bosco ed il deputato messinese Cateno De Luca. Presenti anche i segretari provinciali di CGL, UIL e UGL. La seduta è stata aperta dal Presidente del Consiglio Provinciale, Raimondo Buscemi, che ha sostenuto l'azione politica di Torsi. È stata una bella serata, abbiamo registrato l'intervento di tutte le categorie, dai politici, sia nazionali che regionali, all'associazione di categoria, anche le associazioni del mondo civile. Quindi tutti si sono espressi, tutti hanno espresso la loro stima, la solidarietà verso il nostro Presidente, che tanto si è sforzato per questa provincia a farla intraprendere, soprattutto di un percorso verso la lezionalizzazione della spesa, che sicuramente ha generato qualche piccola frizione, ma che sicuramente andrà avanti, andrà avanti fino a portare dei risultati concreti per la nostra provincia. Nel corso del suo intervento il Presidente della provincia d'Orsi ha ribadito la gravità del gesto di cui è stato vittima. Non ci servono i messaggi di solidarietà, ha detto d'Orsi. Occorre una forte rivoluzione culturale che distrugga finalmente la tavica indifferenza davanti ad azioni che colpiscono le istituzioni democratiche. Presidente, lei in questi giorni ha detto che di attestati di solidarietà non ne ha bisogno, ha bisogno di fatti concreti. Come giudica la seduta del Consiglio straordinario? No, le solidarietà fanno piacere perché testimoniano l'affetto e la vicinanza delle persone che te lo fanno. Il problema è che le solidarietà non sono funzionali a mutare atteggiamenti e a mutare modi di porgersi o di essere. Perché se la solidarietà si rivela soltanto a dire mi dispiace e poi all'intomani continuiamo a girarci la faccia dall'altra parte senza guardare la realtà, senza guardare che questa è additata come una delle province più mafiose d'Italia, che questa è una terra in cui l'indifferenza è il primo sentimento che alberga dentro ognuno di noi, beh, allora le solidarietà non servono a nulla. Serve invece costringere questi delinquenti, malfattori, criminali ad uscire fuori, ad essere scoperti e a mantarli in carcere. Se riusciamo ad ottenere questi risultati la nostra società e i nostri giovani sicuramente si ritroveranno un ambiente, un territorio diverso da quello in cui noi purtroppo siamo costretti a vivere. Il prefetto Ferrandino ha rinnovato l'impegno dell'istituzione da lei rappresentata e da tutte le forze dell'ordine a continuare in quell'impegno di lotta alla criminalità esprimendo piena solidarietà al presidente. Ed intanto anche i presidenti dei consigli comunali dei gentri aggrigentini dimostreranno la solidarietà nei confronti del presidente della provincia d'Orsi in un incontro organizzato a Naro per il prossimo 19 febbraio. La seduta del Consiglio provinciale si è chiusa con la lettura di un ordine del giorno condiviso da tutti i consiglieri provinciali e nel quale si invita la società civile e le forze sane a stringersi intorno alla provincia regionale esortando la magistratura e le forze dell'ordine a fare piena luce su questi biliatti intimidatori ed invitando il presidente d'Orsi a proseguire nella sua azione di governo.